Quali attività state proponendo ai ragazzi? Le attività che abbiamo svolto fino ad oggi sono una giornata di relax alle terme di premia, una giornata di sport con la campionessa nazionale Mariangela Perna di tiro con l'arco e un giro in canoa per ospiti della canottieri città di Omenia. Le serate vengono svolte o presso la prateria o presso un pub locale, un giro in mongolfiera nei cieli omeniesi, oppure anche abbiamo organizzato un giro presso la valle Vigezzo sulla Vigezzina. Inoltre una giornata emozionante e entusiasmante con le macchine da rally e il motoro dei quadro Modossola.